La parola ora ad Andrea De Maria, segue Valeria Valente, Del Noce e poi per le conclusioni darei la parola a Gianni Cuperlo. Sì, io devo star per forza nei tempi, sennò ovviamente mi uccidete direttamente. Sotto osservazione. Sarò necessariamente un po' approssimativo, però la prima cosa che vorrei dire è questa. Qui è emerso, mi pare, in modo largamente condiviso un punto, secondo me molto giusto, e cioè noi ci sentiamo pienamente nella sfida di governo che il Partito Democratico sta affrontando e vogliamo affrontare a quella sfida un nostro contributo forte e autonomo. Vedete, quando Renzi dice io mi gioco tutto, a me dà sempre un po' fastidio, perché a me piacerebbe, dice esse, noi ci giochiamo tutto, il Partito Democratico è tutto nel suo insieme impegnato in campo, ma proprio perché dico questo, dico anche che noi, chi ha sostenuto una certa posizione al Congresso, chi è qui oggi, si deve sentire pienamente impegnato nella sfida del governo e penso che ci dobbiamo sentire impegnati in questa sfida essendo noi i protagonisti della battaglia per il cambiamento. Anche qui voglio dire una cosa, è stato detto in un intervento, è vero, c'è stato anche un inquinamento nelle nostre primarie, c'è stato anche un voto di gente che ha voluto dare un segnale populista, però attenzione a non dare una lettura non vera dei fatti. Renzi ha vinto e noi abbiamo perso prima di tutto col voto dei nostri compagni, è di tanta gente del popolo che ha voluto dare un segnale di rinnovamento e di cambiamento e noi dobbiamo stare, parlare con tutte quelle persone, essere noi protagonisti di una battaglia di cambiamento. Per questo niente subalternità, autonomia, pensiero critico, ma nemmeno però un riflesso di carattere conservatore. Io voglio fare l'esempio del Senato, discutiamo come, ma abolire il bicameralismo perfetto e dare ruolo alle regioni, le autonomie locali nel sistema istituzionale del Paese è un tema che è dentro la nostra riflessione, su cui appunto non credo si debbano avere riflessi conservatori e credo dobbiamo sapere anche questo, il nostro ruolo autonomo e critico serve a rendere migliore l'azione di governo del PD, perché penso alle persone che sono qui, ci sono intelligenze e capacità nelle diverse livelli del partito istituzionale che possono dare un contributo vero e guardate che noi siamo più comodi se diamo l'idea di quelli conservatori che non vogliono cambiare niente, perché possiamo essere un facilissimo capro espiatorio per le cose che non andranno, mentre se siamo i soggetti promotori del cambiamento possiamo servire davvero al Partito Democratico del Paese e dare un contributo fino in fondo all'azione di governo che tutti dobbiamo affrontare. E questo vuol dire prima di tutto il merito e per noi secondo me il merito è che la prima condizione per sconfiggere la crisi è la giustizia sociale e che quando si fa la scelta di ridistribuire il reddito, se si tassano le rendite e si interviene a favore del lavoro sul cuneo fiscale si fa una scelta giusta, se si precarizza il lavoro si fa una scelta sbagliata. L'applauso l'ho fatto a me però non a lui, così è proprio cattiveria. Infine vorrei dire queste ultime due cose, verissimo riflettere sul partito, facciamo una riflessione sull'organizzazione, sulle forme di partecipazione, ma promuoviamo noi una riflessione su cosa vuol dire sul piano della cultura politica stare nel partito del socialismo europeo. Per questa decisione forse l'abbiamo fatta in modo un po' superficiale, mentre una scelta è che può avere sul piano della nostra cultura politica un lavoro fondamentale. Infine, qui è stato detto l'impegno di tutti per far vincere il periodo democratico alle europee, benissimo, alle europee si votano anche le preferenze. Sarò un po' terra a terra diciamo, ma la nostra presenza politica si giocherà anche sulle preferenze che i candidati che hanno certe posizioni e sostengono certe posizioni prenderanno le elezioni europee. Grazie. Grazie Andrea.